sì come avete sentito questa è una piccola nazione che si chiamava swastiland il regno dello swastiland e da qualche anno siamo una monarchia abbiamo un re il re ha deciso di cambiare il nome e così che adesso ci chiamiamo abbiamo lasciato fuori il nome inglese siamo rimasti con il nome locale per questo siamo adesso il regno di e swastiland è una piccola nazione che anno fa una mia amica che ne ha più 80 anni mi ha portato una mappa e ha detto mostrami dove la tua nazione e io ho chiesto una lente di ingrandimento così lei poteva poterla sono 200 chilometri per 150 con una popolazione di un milione e cento mila cento mila abitanti nazione piccola così che questa è una nazione una diocesi un vescovo che sono io ecco io sono vescovo qui a livello ufficiale da gennaio del 2014 come avete sentito prima però vescovo vescovo in sudafrica il suo attimo si trova fra il sud africa e il mozambico due grandi nazioni noi siamo piccoli però siamo anche molto conosciuti fortunata sfortunatamente per a causa dell'aids un terzo della nostra popolazione all'aids chiamo probabilmente la nazione con la percentuale più alta di malati di aids questa è la parte brutta la parte buona è che veramente il governo in questo ha fatto tanto perché siamo arrivati già a quello che si chiama 90 90 90 90 per cento dei malati di aids sono consapevoli di avere la malattia 90 per cento di loro sono a prendere la terapia e 90 per cento di loro e la come si dice la presenza del virus e quasi non si vede così che questa è una cosa molto importante penso lo sia anche in questo momento che anche noi abbiamo questo benedetto virus in giro anche noi siamo in quarantena in questo momento un 70 per cento della nostra popolazione non abita in città e popolazione rurale e per questo anche il motivo di questo progetto la nazione si trova è divisa in quattro regioni una di queste regioni si chiama lubombo ed è la zona più povera di esuatini e una delle grandi sofferenze e la mancanza di acqua le nostre piogge arrivano nel mese di ottobre fino al mese di marzo aprile e sono diversi anni che che non piove veramente in questa zona così che abbiamo sviluppato questo progetto dei salvatori di acqua il modo che se piove anche poco loro possano raccogliere l'acqua c'è anche la possibilità c'è chi vende l'acqua e questo permetterebbe loro di ricomprare l'acqua e di averla il modo di poter anche lavorare lavorare sul sull'orto questo progetto che sempre abbiamo portato avanti il modo un altro però che in questo momento diventa ancora più importante come dicevo perché anche noi abbiamo questo cobit night id questo coronavirus che come sapete una delle cose che si chiede per proteggersi e quello di lavarsi le mani se non c'è l'acqua c'è poco da fare allora per noi questo progetto veramente non è soltanto il serbatoio d'acqua anche noi mettiamo a posto la casa dove dove sarà lo sarà messo in modo che possano veramente anche a raccogliere l'acqua se c'è un po di pioggia